La regione ha lanciato un progetto che permette ai giovani di avere tirocini ritribuiti in aziende anche indicate da loro, a fornire informazioni uno staff di ragazzi e ragazze. Andate a trovarli Francesco Tei. Giovani per i giovani, questi sono i ragazzi che lavorano per il progetto sì? Sì, il progetto Giovani sì è il progetto voluto dal Presidente per l'autonomia dei giovani e ha pensato e quindi questo ci ha fatto molto piacere che a seguire da attori il progetto fossero proprio dei giovani. Quindi qui oggi siamo nell'ufficio che risponde al telefono, manda le mail, parla con i giovani e aggiorna appunto sulle opportunità tutti i giovani toscani. Giovani sì è un progetto complesso, quindi ci sono varie azioni che vanno dalla formazione al lavoro, al fare impresa. Ora siamo partiti con una delle azioni più importanti, è quella dei tirocini ritribuiti. Quindi dal 15 giugno appunto il nostro ufficio sta rispondendo sia ai giovani che chiedono informazioni sul tirocino, sia alle aziende che accolgono o accoglieranno i giovani in questo periodo di tirocino ritribuito. La novità voluta infatti dalla regione è che il giovane tirocinante abbia una retribuzione di 400 euro al mese. E così in 30 giorni sono arrivate 2.350 telefonate al numero verde e oltre 1.600 mail. Il sito ha avuto 37.000 visite. Tu sei? Chiara. Ecco Chiara, ci vogliono anche doti umane diciamo. No, devo dire che si crea anche un contatto perché spesso, no, spesso no, però capita che i giovani siano disorientati e quindi abbiano bisogno di un accompagnamento anche durante la telefonata con un po' più attento. Però la cosa carina che è successa in questi giorni è che i giovani che ci chiamano ci ringraziano perché dicono che siamo disponibili, gentili. Quattro degli otto ragazzi dell'ufficio che non chiuderà per ferie ed è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 16 stanno facendo qui il servizio civile.